Così sei riuscita a uccidermi alla fine. Ma a che cosa ti servirà? La Sindone non è qui. Non la volevi per curare, ma per ampliare il tuo potere. Non il mio, il nostro. Siete così di corte vedute. Voi assassini non usereste mai quel potere, mentre noi miglioreremmo la vita dell'uomo. Spero che non troverai la Sindone. Non hai nessuna idea di ciò che può fare. Dimmelo. No. 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 No.